Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questo quarto episodio di Minecraft Qui con me oggi c'è Damiano E praticamente ho parlato per circa due minuti e mezzo senza notare che Action non mi stava registrando Stavo registrando solamente le voci Non fatemelo una colpa, non è sempre colpa mia Sono stato male in questi giorni, capisci? E allora, abbiamo trasferito tutte le cose dalla casa caverna al nostro inventario Però le cose erano troppe, quindi abbiamo deciso di staccare tutto ciò che era staccabile Lui si è preso il carbone, mi sono preso ferro e redstone E poi ci siamo presi praticamente tutto Là sotto dove non vedete ho costruito un pilone per riconoscere facilmente la caverna Io lo vedo Ah vabbè perché tu hai il computer ultra potente quindi puoi mettere più chunk E lì c'è un super cactus alto ben sei blocchi che avevo scoperto nello scorso episodio Mentre andavo a esplorare un posticino molto carino per costruire casa Adesso dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Dillo tu! Stiamo andando in una montagna tipo che supera le nuvole E abbiamo deciso di costruire la casa là E ora io mi sono segnato le coordinate Che sono 79 471 Quindi ci vediamo lì Per scendere dalla montagna praticamente abbiamo pensato di creare Il portale del nether in cima No per scendere non creiamo in pratica un laghetto dove ci buttiamo Per salire è il problemino Ah per salire è il portale del nether Esattamente Perché non è che possiamo scalare la montagna ogni tipo 3 secondi Ci vediamo davanti alla montagna e sicuramente vi piacerà Ok ragazzi Non hai mai giocato a Skyrim Ok ragazzi Ok ragazzi abbiamo improvvisato un basecam qui Abbiamo dormito qui e là Siamo andati a prendere i letti al villaggio Stava facendo notte e ci stavano shottando tutti i mob di questo mondo E sì Quella è casa nostra Piccola Noi non abbiamo grandi progetti Ma comunque A tempo perso poi in off camera Mi è venuta questa idea proprio momentane Tipo faremo delle scale attorno alla montagna Che tipo saliranno là sopra Una figata comunque Sì costruiamo proprio là sopra Là sopra ci siamo saliti Ci siamo stati tipo abbastanza per salirci E c'è praticamente tutto piatto Sopra è piattissimo Quindi è perfetto per costruire Qui abbiamo anche una savana Con tante mucche che adesso shotteremo Ci prenderemo un po' di legno E incomincieremo la scalata verso il successo No verso la montagna semplicemente Ragazzi sono veramente euforico Cioè va Cioè va Dove l'ho trovato un altro tramonto dall'alto? Perché noi di solito il tramonto lo vediamo dal basso Qua sotto è tutto il bordello che abbiamo La savana E vi faccio vedere qua sopra Com'è praticamente Siamo saliti E ho finito tutti i blocchi di costruzione E' piatto praticamente Ci potrebbe uscire una bella casa Possiamo soffrire anche di queste pendenze Fare cose fighe Fare cose fighe Comunque adesso noi mettiamo delle chest qui Piazziamo il portale per il nether E andiamo al nether Per ripiazzare l'altro portale Perché qua sotto comunque c'è anche della lava Ho visto Quindi possiamo fare anche un generatore di ossidiana Un generatore di ossidiana abbastanza improvvisato Quindi Perché poi dobbiamo portarci praticamente L'altro portale per il nether Al nether E metterlo nelle cortine Sì avete capito comunque Ehm Ci vediamo probabilmente Dopo che abbiamo fatto le chest Abbiamo ripiense tutti Un giorno alla spedizione Andate ciao Il portale nella roccia E' stato creato E questo non si sposterà più Perché Ehm Dillo tu Dillo tu Perché se lo spostiamo Poi si possiamo spawnare da un'altra parte Qualsiasi del nether E non ritroveremo più l'altro portale Che faremo ora nel nether Eh Vedete che intelligente Ma Un attimo E te ne sei accorto anche tu Che questo blocco di terra E' più scuro di questo E' vero E' tipo No sembra il tipo Se lo stiamo rompendo Che cosa sei? Terra brulla Course dirt Terra brulla What the fuck Terra brulla La piazziamo qua Lasciamolo qua Ok Allora Eh Andiamo nel nether a piazzare l'altro No Prima devo Devo svuotermi l'inventare Perché mentre andiamo al nether Facciamo un po' di spedizione Se ti sposti faccio la nostra Io l'ho già svuotato Comunque Intanto comincio a far creare il mondo va Luggerò un po' il server forse Lasciati ogni speranza Achievement Dovrei metterlo in italiano pure io Ma che cavolo Sto facendo laggare questo mondo L'altro mondo Tutti i mondi No ma siamo No Siamo al chiuso Che figo Che no devi venire qua Ok Eh oh aspetta Sta calmo Sto venendo Eccomi nether Sono tutto tuo Suonava male Terribilmente male Da Ok Fammi uscire dal nether Ma Ma Perché ci sono due pezzi in più di ossidiana Non ne ho idea Non li ho messi mica io Allora Siamo chiusi dentro uno stanzino What the fuck Beh se scavi sopra C'è Bedrock C'è la bedrock Perché Siamo già in cima al mondo lì Quindi dobbiamo andare in basso Lo vuoi il piccone? Lo vuoi il piccone? Eh si Ti è il piccone Anche se Renderizzo questi pezzi di Di goal Così mi faccio le torce 40 torce Ok Ok Allora sento un ghast Cavare sotto di sé al nether È un suicidio Non mi sono fatto le frecce Non mi sono portato le frecce Ho l'arco Ah va bene Questi bug Questa qua me la metto qui Che sta qua non è Ok Sono pronto Io ti seguo a ruota Ma si Ah la luce Ok Scamo da questa parte C'è il quarzo No ma perché devi rompere i picconi? C'è il quarzo Ma noi lo sapete che cosa ce ne facciamo nel quarzo? Un cazzo Niente Ok Poi ritornarlo prendiamo Ma tu hai trovato Oh lava Mi sa che hai trovato una lava Vediamo Mi sa che hai trovato la mia stessa lava Ragazzi Il nostro eroe è Damiano Nella speranza di non morire leftando Ha provato a nuotare nella lava Come ben vedete Questo qua è il suo buco E adesso io Io non voglio morire come lui Ma come faccio? Ah Praticamente siamo sopra un mare di lava A quanto pare Questo è perché Tu non controlli Tu vai Tu vai diretto Vai spedito Ok c'è della terra No non è terraferma Ma se mi spawnasse qualcosa dietro Io metto un colpo di coppia Ok adesso che so che il mio culo Si trova sopra la lava Direi che sto molto più attento Però c'è qualcosa che non mi quadra Perché dove ero io Nella direzione in cui stavo scavando io La lava ce l'avevo praticamente sotto il blocco Quindi Adi Io sono due corazze di ferro in più Ok credo di Allora tu morirai Quindi poi ti serviranno Affanculo io non muoio Credo di aver trovato qualche cosa di buono Tipo ho trovato Ho trovato della terra Ferma Dove Cioè Dio ferma Però ho trovato Un po' dove andare Ah devo Devo scoprire qualche cosa in più Di questo luogo maledetto No di questo maledetto luogo Mi sto avventurando Un'avventura Io devo ricraftare tutto Ma si E' bello quando si muore vero Eh Guarda non vedevo l'ora Fortunatamente non ho portato i piccoli Ok Là c'è altra terra Lì c'è terra Non si capisce un cazzo Siamo sopra un lago di lava di merda Ho trovato dove possiamo andare E non è facile arrivarci Porta cobblestone Eh io ne avevo abbastanza Porta una cesta Perché qui ci moriremo Quasi tante volte Ma così tante volte Che tu nemmeno immagini Cazzo Una cesta devo portare Sì 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 Una cesta Eeeh Cesta e cobblestone Tanto ne abbiamo Una sola sicura Porta ne due C'è doppia cesta Allora Cosa devo portarmi più Ah il ciboretto Me lo dai tu Uuuuh Ho trovato un gordo Di avere tutto Ho trovato un gasta Del cazzo Ah ho perso lo scudo Vabbè pazienza Chi se ne frega Non ti servirà Eeeh Niente Guardalo Guardalo Con la merda di cast Mi ha visto Se mi ha visto No guarda Facciamo così Che è meglio Ma sto arrivando va Ce la lasciamo come finestra Sono senza cibo però Eh vabbè vieni Che te lo vado io Hai tappato il buco Sì Ok qua ci vuole Un ingresso un po' più Che se no non si capisce Che è il nostro stanzino Cioè questo Questo nether Fa cagare Le cose sopra Sono le due E quelle sotto Sono lì Ok Fila a scendere da qua Qui dove si è morto Allora Stai attento perché Si cade Lì è dove dobbiamo Arrivare noi Lì proprio Davanti a me No no Non ti consiglio Di farlo Nella Con la nether rock Qua La nether rock Perché Perché la cobblestone I cast la rompono Si Aspetta Ma io passo io Allora Io vado a prendere la cobblestone Da casa Tanto non devo fare niente Si si Però tappo qua Perché ho paura di cadere Cazzo 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 per piazzare il nuovo portale del nether e soprattutto staremo molto attenti a non morire perché io ho fatto un po' di strada in off camera perché dobbiamo arrivare lì, vabbè lo vedete l'avevo fatto con un cerchio rosso, dobbiamo arrivare lì e poi piazzare il nostro portale di essidiana, comunque sì per questo episodio è tutto, passate nel canale di Damiano lasciate un mio piace, ciao ciao!